Zanetti richiama Alex Costantino per inserire il nuovo arrivato Candellone Tait, centralmente per Fink che allarga sulla sinistra per Giasi l'attaccante bianco-rosso mette in mezzo la sfera impatta su Gennari e finisce in fondo al sacco un autorete del difensore Canarino porta in vantaggio il su Tirol Gennari che nell'occasione si fa anche male e più tardi lascerà il posto a Da Silva con destro che passa al 4-3-3